L'appello che rivolgiamo oggi a un mese dal 4 di novembre, quando ricorderemo 50 anni dall'alluvione di Firenze, lo indirizziamo a tutti coloro che in quel 4 di novembre del 1966 arrivarono da ogni parte della Toscana, d'Italia e del mondo per salvare Firenze. L'appello e l'invito a tornare qui a distanza di 50 anni, non per un giorno di lutto ma per festeggiare insieme un giorno di speranza, per ricordare questi 50 anni, progressi fatti in questo mezzo secolo per avere un territorio più sicuro e le nostre città più sicure. Mi auguro davvero che la risposta sarà entusiastica e sarà fatta dalla gioia e dalla partecipazione di centinaia e centinaia di angeli del fango. Alcuni li ho anche incontrati, addirittura sono arrivati da Washington, ma credo che verranno da tutte le parti del mondo. Un appello del sindaco Nardella che insieme a Governo, Regione, Comitato Firenze 2016 e Protezione Civile Nazionale chiama a raccolta a Firenze gli angeli del fango di tutto il mondo in vista del cinquantesimo anniversario dell'alluvione. Palazzo Vecchio speterà infatti nel Salone dei Cinquecento il prossimo 4 novembre il raduno degli angeli che prestarono soccorsa ad una Firenze dilaniata dal suo fiume da acqua e fango, un abbraccio dei volontari di tutto il mondo che si strinsero intorno alla gente del capologo toscano e l'aiutarono a rialzare la testa dopo la tragedia del 66. Il sindaco insieme al capo della struttura Italia Sicura di Palazzo Chigi, Erasmo d'Angeli, si è invitato anche in Fiorentina ad aprire le proprie case per questo eccezionale raduno, per ospitare coloro che 50 anni fa contribuirono a salvare Firenze. Intanto l'anniversario dell'alluvione sarà anche l'occasione per fare il punto su cosa è stato fatto e cosa ancora c'è da fare per mettere in sicurezza la città. Gli angeli del fango che arriveranno a Firenze troveranno anche due belle sorprese, cioè un fiume pulito dalle fognature, nel senso che lungo tutto il corso dell'Arno nessuna delle 40 città scarica più in Arno i propri rifiuti reflui urbani ed è il primo fiume d'Italia pulito, interamente pulito. La seconda è l'inizio dei lavori, quelli strutturali per mettere maggiormente in sicurezza la città di Firenze e parte della Toscana. I cantieri sono aperti per quattro casse di espansione a monte della città di Firenze e il rialzo delle spallette della diga di Levane, quotano circa 120 milioni di euro, sono in corso e sono in progettazione altri lavori, altre opere sulla parte della Val di Sieve. Con questo sistema noi riusciremo in qualche modo a trattenere a monte quella massa d'acqua, quella valanga di acqua che inondò Firenze. Abbiamo davanti a noi altri due, tre anni di cantieri e poi finalmente possiamo dormire sonni tranquilli. Così Palazzo Vecchio sarà il fulcro di una serie di eventi che dal 4 al 6 novembre faranno da cornicio al raduno degli angeli del fango, con dibattiti, incontri e convegni anche per fare il punto sul piano nazionale di opere e di interventi del governo, per mettere in sicurezza le città e contrastare il dissesto idrogeologico. Tra le iniziative in programma anche il vertice dei sindaci delle grandi città, sempre per discutere di prevenzione ai rischi e la giornata nazionale del volontariato di protezione civile. Un grande impegno dei volontari sul quale ha posto l'accento anche la vicepresidente della regione toscana Monica Barni, ricordando la straordinaria lezione di partecipazione civile degli angeli del fango. Proprio all'orda a raduno del 4 novembre sarà dedicata una sezione sul sito toscana.firenze2016.it, uno spazio online pensato non solo per dare visibilità a celebrazioni e progetti legati al cinquantesimo anniversario dell'alluvione di Firenze, ma anche un luogo virtuale che diventi spazio attivo di scambio di buone pratiche ed esperienze locali. Infine, riguardo al raduno degli angeli del fango, Firenze Conversion Bureau ha attivato il sito www.florescongressbooking.com, dedicata alle prenotazioni alberghiera a prezzo scontato, una lista di ristoranti convenzionati per tutti gli angeli del fango che arriveranno a Firenze da ogni parte del mondo. L'anniversario potrà essere l'occasione anche per ricordare la grandissima mobilitazione mondiale che ci fu nel 1966, ha ricordato l'ex sindaco di Firenze Mario Primicerio, vicepresidente del Comitato Firenze 2016, un'occasione per far fare alla città la pace col suo fiume. Tra Firenze e l'Arna, detto Primicerio, non c'è mai stato un rapporto di vera amicizia. Ora, forse, potremo recuperare.